benvenute e benvenuti alla rubrica letture di oggi ho deciso di prendere un articolo che ho trovato sul quotidiano spagnolo abc e di leggerlo naturalmente in traduzione italiana perché parla di un tema di grande attualità cioè il negazionismo molte persone negano il covid in spagna proprio come è avvenuto anche a berlino con la manifestazione di piazza come in parte è avvenuto anche in italia e questo articolo ha delle tesi che non condivido al cento per cento ma che in parte sicuramente potrei sottoscrivere perché mette un po alla berlina questa teoria del complotto secondo la quale il virus in realtà non esiste è stato creato artificialmente teorie che sono completamente smentite dal fatto che tutti i potenti della terra anche si stanno contagiando con questo coronavirus l'ombra lunga del negazionismo la storia interminabile della lotta contro la ragione e la scienza il covid 19 è la sua ultima battaglia però ancora ci sono alcuni che negano l'ebola la ids o l'eliocentrismo la pandemia è una farsa focolaio focolaio qui non ce ne sono di focolai i test sono falsi falsi positivi non c'è giustificazione scientifica che confermi il protocollo sono tutte invenzioni questi furono alcuni degli slogan che si sono potuti ascoltare il 16 agosto nella piazza di colón a madrid durante la concentrazione contro le misure anti covid migliaia di negazionisti senza mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza nella pieno risorgere dei contagi nonostante l'organizzazione medica OMC abbia comunicato al governo che l'atto era un attentato contro la salute pubblica la pandemia non esiste perché gli ospitali sono vuoti allora insisteva un altro partecipante mentre una portavoce del collettivo stop a lockdown spiegava le sue ragioni rivendichiamo i diritti umani e le libertà che il governo ci sta togliendo con la scusa di un fantomatico virus che non causa più morti questa stessa settimana invece i medici avvertivano che le unità di terapia intensiva di madrid erano quasi al 100 per cento della loro capacità e in spagna si registravano 241 morti in 24 ore una cifra che rimanda al tempo del lockdown puoi credere che il governo potrebbe fare molto di meglio certo però non puoi negare i fatti è da stupidi nessuno può dire che l'epidemia non sia causata da un virus né che questo virus non uccide perché è un'evidenza le prove sono i numerosi morti in tutto il mondo e sono dei dati non si può nemmeno negare che l'unica forma di lottare contro il virus senza un vaccino sia evitare il contagio massivo con l'isolamento e le mascherine e allo stesso modo non si può dire che gli areoplani non volano non so contro quale di queste evidenze possono lottare quelli che manifestano alla plaza de colon afferma il conosciuto divulgatore scientifico manuel toaria i negazionisti senza dubbio non nacquero con il covid 19 ci sono sempre stati molto prima delle polemiche dichiarazioni di miguel bosè che criticava tutti diceva riguardo all'attuale pandemia che le verità di medici e scienziati non erano fondate nell'antichità ci siamo già trovati di fronte alla negazione di tutte le razze della specie umana nel medioevo di fronte alla negazione della teoria eliocentrica galileo fu condannato dalla santa inquisizione nel 1633 e dovette vivere agli arresti domiciliari fino alla sua morte per aver affermato che la terra e i pianeti giravano intorno al sole la chiesa non lo ha assolto fino al 1992 durante il pontificato di giovanni paolo ii e non ci deve sorprendere perché in una intervista realizzata su richiesta del governo per la fondazione spagnola per la scienza e la tecnologia nel 2015 si scoprì che un 25 per cento degli spagnoli credeva ancora che il sole girasse intorno alla terra il filosofo josé antonio marina ha detto poco fa che questo modo di pensare è uno degli svariati fallimenti della nostra intelligenza ma è così resistente che neppure l'illuminismo potè vincerlo durante il ventesimo secolo abbiamo trovato molti gruppi di persone che negavano la teoria dell'evoluzione di darwin l'olocausto nazista l'arrivo dell'uomo sulla luna il riscaldamento globale del pianeta l'aids altre pandemie come l'ebola soltanto un anno fa una conferenza internazionale di terrapiattisti annunciò stavano per intraprendere una lunga navigazione via mare per arrivare fino al muro di ghiaccio che secondo loro circonda il nostro pianeta l'avventura più grande e audace fino ad oggi diceva lo slogan di questo viaggio per terrapiattisti al tempo stesso uno studio realizzato dalla piattaforma internazionale you gov rivelò che solo un 66 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni sono convinti che la terra sia rotonda negano l'evidenza come l'olocausto è una stupidaggine perché ci sono milioni di documenti che lo dimostrano o l'arrivo dell'uomo sulla luna quando sono oramai 12 gli astronauti che la hanno toccata e persino l'URSS lo ha riconosciuto in piena guerra fredda che Neil Armstrong fu il primo è certo che i 3000 della piazza di Cologne non hanno influenza né possono mettere sotto questione nulla però potrebbe essere preoccupante se qualche dirigente si appropriasse di questi argomenti per fare politica o soldi così come accadde con il governo del sudafrica tra il 99 e il 2008 il ministro della salute aveva proposto di curare l'ids con la barbabietola gli spinaci il limone e l'olio si ritiene oggi che durante quegli anni in cui il presidente tabo mgevki negò l'hiv nel paese morirono 365 mila persone di ids la cosa curiosa è che all'interno dell'universo dei negazionisti c'è anche diversità di opinioni non tutti negano le stesse cose né sono mossi dagli stessi interessi con l'ids per esempio c'è il gruppo perth guidato dalla dottoressa in fisica nucleare eleni papadopoulos eleopoulos che rifiuta direttamente l'esistenza del virus poi c'è il biologo molecolare esperto in retrovirus peter duisberg per cui l'hiv non è responsabile della malattia in mezzo c'è la comunità scientifica toaria sottolinea in questo senso la differenza fra negazionisti e scettici che non si possono mettere a confronto i negazionisti rifiutano fatti che sono stati dimostrati scientificamente sono conservatori a oltranza si oppongono al progresso ci sono sempre stati i secondi gli scettici manifestano teorie che ancora non sono state dimostrate non possiamo essere scettici con un apparato di 500 tonnellate che vola a 10 chilometri di altezza perché lo abbiamo visto non possiamo neppure essere scettici con i vaccini del covid perché il virus è nuovo però hanno funzionato altre migliaia di vaccini questo non vuol dire che non moriranno 5.000 vaccinati per effetti secondari non c'è rischio zero in nulla però sì ci sono delle garanzie che il rischio sia minimo bene se avete qualche altro interesse riguardo a temi di attualità fatemelo sapere sotto nei commenti e vedrò di cercare qualche articolo sulla stampa italiana o anche su quella internazionale grazie a tutti